E' Giuseppe Pitta della coalizione Facciamo Piazza Pulita con ben sei liste civiche a sostegno il nuovo sindaco di Lucera che ha ottenuto il 58% con 6.779 voti. Mentre Fabrizio Abate, sfidante ex vice sindaco dell'amministrazione Tutolo, candidato della coalizione Insieme per Lucera e sostenuto dal PD Italia in Comune e Siamo Lucera, ha ottenuto il 42% con 4.883 voti. Pitta, già presidente del Consiglio Comunale, ha ricevuto il testimone da Antonio Tutolo che ha caldeggiato la sua candidatura dal primo momento. L'affluenza alle urne è stata più bassa rispetto al primo turno, pari al 42%. E' stata una sfida al ballottaggio al veleno tra i due contendenti, ma vincere come sempre sono stati i numeri. Gesso sportivo, quello di Fabrizio Abate che si è congratulato personalmente con il sindaco eletto. Pitta ha commentato la vittoria dichiarando, mi impegnerò al massimo per non deludere le aspettative di tutti. Questo è il coronamento di un percorso cominciato nel 2014 e Lucera ci ha premiato per il sacrificio e per tutto quanto fatto negli ultimi anni. Lunedì 5 ottobre sono stati registrati 1.417 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 83 casi positivi, 29 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 25 nella provincia Abate, 27 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce e 2 in provincia di Taranto. E' stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Il direttore generale dell'ASL Foggia, Vito Piazzolla, ha spiegato che l'ASL Foggia è impegnata nel monitoraggio continuo della criticità registrata presso una residenza per anziani nel comune di Ascoli Satriano. Il servizio di igiene ha già sottoposto a tampone tutti gli ospiti e gli operatori della struttura. Sono risultati positivi 15 ospiti sui 23 presenti e 7 operatori sui 14 complessivi. Tutti sono stati presi in carico dall'ASL Foggia. Per 4 degli ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero e in corso un'ulteriore verifica del rispetto degli standard di sicurezza adottati nella struttura. Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha prorogato al 31 marzo del 2021 la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di essenzione ticket per reddito. Il provvedimento consentirà dunque agli utenti di beneficiare per altri sei mesi della validità dei codici di essenzione e dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. L'attuale situazione epidemiologica rende necessario ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento presso gli sportelli dell'anagrafe sanitaria dei distretti dell'ASL. I cittadini che intendono presentare autocertificazione per ottenere un attestato di essenzione che sia valido fino a marzo 2021 o che non compaiono negli elenchi delle essenzioni certificate o autocertificate possono accedere alla sezione dedicata del portale Puglia Salute. Per coloro che invece non hanno la possibilità di usare mezzi telematici le ASL metteranno a disposizione all'esterno di alcune sedi territoriali delle anagrafi sanitarie sistemi di raccolta della modulistica necessaria. Entra nel vivo BY nel Salone Mediterraneo dei Vini in programma a Bari fino a domenica 11 ottobre nell'ambito della Fiera del Levante nei padiglioni 18 e 20. Il sistema vitivinicolo pugliese tra tradizione e innovazione è il tema del convegno che ha inaugurato il ricco programma del Salone organizzato dalla nuova Fiera del Levante in collaborazione con Conf Cooperative Puglia, Movimento del Vino Puglia e il sostegno del Dipartimento Agricoltura della Regione. Nell'incontro sono stati presenti i principali risultati di ricerca per la vitivinicoltura realizzati nell'ambito di iniziative di Conf Cooperative Puglia in collaborazione con università e centri di ricerca. Un'occasione per attivare anche una contaminazione virtuosa tra il Salone dell'Innovazione e B-Wine, le due novità dell'edizione numero 84 della campionaria generale. Spazio ai protagonisti della rassegna, i vini regionali nelle degustazioni presso l'Enoteca del Mediterraneo e nelle masterclass dedicate ai vitigni del Tacco d'Italia a cura dei professionisti dell'Associazione Italiana Sommeli e Puglia. Tradizione e innovazione è stato l'argomento del convegno realizzato da Conf Cooperative Puglia nell'ambito di B-Wine. L'obiettivo è duplice, da un lato creare una contaminazione virtuosa tra le due novità di questa 84esima campionaria, il Salone dell'Innovazione e B-Wine. Abbiamo creato un momento in cui le idee innovative del Salone dell'Innovazione potessero contaminare le cooperative e le cantine sociali presenti in B-Wine. D'altro canto abbiamo voluto presentare i risultati di ricerca realizzate a Conf Cooperative in questi ultimi anni attraverso una collaborazione con il Sistema della Conoscenza. Subiti fuori alcuni temi interessanti, la valorizzazione di vitigni autoctoni, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti attraverso l'utilizzo di microbatteri e poi una cosa molto importante la riscoperta di vini prodotti da vitigni autoctoni con basso contenuto alcolico e alte proprietà antitumorali. Grazie a tutti!